ciao amici quanta familiarità avete con il grano saraceno se poca allora questo video vi sarà utile infatti il grano saraceno ha molti benefici per la salute e uno è aiutarci a mantenere il peso forma sarebbe un vero peccato escludere questo superfood dalle nostre tavole vediamo allora insieme 5 incredibili benefici del grano saraceno se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video uno per mantenersi in forma con tutti i nutrienti essenziali il grano saraceno contiene in quantità le vitamine del gruppo b che ottimizzano il metabolismo è anche ricco di proteine ad alto valore biologico e contiene tutti gli amminoacidi essenziali amici se vi interessa questo argomento preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra 2 ideale per diabetici e celiaci una delle caratteristiche più importanti del grano saraceno è il suo indice glicemico basso questo lo rende un alimento adatto ai diabetici e per chi ha valori glicemici alti il grano saraceno presenta anche una sostanza il dichiro inositolo capace di ridurre la glicemia è anche privo di colesterolo e naturalmente gluten free cioè senza glutine e adatto ai celiaci 3 amico dell'intestino il grano saraceno è un'ottima fonte di fibre e perciò un alleato prezioso della salute dell'intestino le fibre solleiticano gentilmente l'intestino e lo aiutano a liberarsi con regolarità 4 ricco di sali minerali che fanno bene alla salute il grano saraceno contiene diversi sali minerali benefici per la salute come il magnesio efficace contro l'affaticamento e il potassio salutare per il cuore 5 un ingrediente versatile in cucina portare sulle tavole varietà salute e gusto con il grano saraceno è davvero facile anzitutto può essere reperito sul mercato tutto l'anno senza grosse difficoltà poi può essere il protagonista di diversi piatti ad esempio come ingrediente base delle polpette vegetariane oppure può arricchire le insalate accompagnare piatti di verdura e rendere più nutrienti le zuppe avete visto amici quanti benefici può regalare il grano saraceno per vedere tanti altri video sull'alimentazione per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate per sostenere il mio progetto di salute naturale cliccate su abbonati al canale la salute è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di simona vignali grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti